eccomi ce l'ho fatta buonasera ora cerco anche di collegare il pc perché se no non vedo manco quello che mi scrivete c'è nessuno siete scappati tutti eccomi allora aspetta facciamo una cosa tanto che ho qualcuno è sbucato due persone ci sono non so chi ma ci sono sto cotta stasera si vede sto come le bertuele allora volevo condividere ecco ciao pamela volevo condividere live almeno almeno sui gruppi arrivo volevo condividerla sui tre gruppi principali angela buonasera ok che magari riesco a condividerla in maniera che possono guardarla anche direttamente dai gruppi ce la posso fare sta diventando tecnologica ciao francesca ciao sorellina rita arrivo finisco di tentare di condividere con l'ultimo gruppo dei nostri eccolo e arrivo fiume fiume io sempre poi ho finito di mangiare adesso mangiato con l'imbuto ciao stefania buonasera ok sembra che ce l'ho fatta adesso rientro nel profilo della pagina se non leggo i un po stasera grazie francesca sono onorata che non potete mancare millena buonasera loredana buonasera ecco ci stiamo aumentando la semia paiono anche autun flower buonasera sto sperando che mi si appaiano sul pc perché sul telefonino vi vedo microscopici e siccome sono orba ciecata se mi apparissero qua mi farebbero una cortesia oh ecco sono riuscita a farle apparire anche sul pc così leggo meglio perché se no non riesco neanche poi a leggerle le domande la sigla oltre che nei miei video su youtube ce l'ho di default l'ho scodennata altro che petardi con la codetta ninja oltre che prima o poi mi beccate direttamente in pigiama o in mutande a fare la live io sono indecorosa mi domande da farti ma poi lunedì me lo dimentico e devi prendere appunti Angela tu pensi che io mi ricordo le cose così? sai quante volte dico stasera faccio quel video e poi ciao e quindi io mi scrivo tutto ormai sì il nano è crollato come una pera ma perché oggi abbiamo giocato tutto il pomeriggio a biliardo perché aveva preso un 9 in matematica e gli avevo detto che se prendeva 9 o 10 gli concedevo tutto il pomeriggio di giocata a biliardo allora si è sfogato a biliardo e poi come è arrivato a casa in effetti ho sonno pure io tra l'altro non so neanche quanta batteria ho nel telefono ho il 56% di batteria quindi finché reggo mi vedete e quando non mi vedete più vuol dire che è morta la batteria è perché per me no Angela 9 in matematica io ancora adesso quando devo fare due conti che superano i due numeri nell'operazione o chiamo nano o uso la calcolatrice poi la matematica per me è proprio nemica giurata io amo la storia amo la filosofia la letteratura le lingue lì sono tranquillissima ma con la matematica con la geometria con il disegno tecnico il disegno artistico io sono una schifezza proprio manco lo mino stecco riesco a fare buonasera Mara ciao Simona ah aiuto devo aspettare che mi appaiono ecco sul pc anche io sono una schiappa in matematica infatti no anche io con la matematica non ho un bel rapporto tranne dover contare gli spiccioli per arrivare alla fine del mese in effetti ecco se i calcoli li ragiono i soldi con la cosa che devo sempre contare anche il fagiolo che compro in più ci riesco benissimo se invece non li rapporto ai soldi non riesco a fare neanche tre per due buonasera Silvia io di arte Francesca sono storia dell'arte storia dell'arte andavo benissimo ma quando si trattava di pia matita in mano sono una cosa indecorosa quando disegno il ferro di cavallo si è un porta fortuna attira un po' di fortuna io ce l'ho qua il mio personale ce l'ho ancora le viti perchè non lo ho appeso al muro lo ho appeso con un chiodino anzi poi lo appendo dopo comunque si un po' di fortuna la porta ma non è che porti chissà cosa io sono sempre con le pezze nel culino lo stesso però sono quelle cosine folcloristiche che se non fanno bene male non fanno quindi tentare non nuoce ciao chiara claudia buonasera si storia dell'arte piaceva tanto anche a me invece di disegno no ciao alessandra ecco mia figlia ciao pami ma infatti Rita io ce l'ho da da secoli e secoli appeso qua nella stanzetta da lavoro tra l'altro perchè dico non se sa mai sembrano i nubanfi in occhio ma l'occhio prezzemole finocchio hai detto che ci sono tecniche più potenti ma non è che ci sono tecniche più potenti o meno dell'oponoponopo è che ce ne sono tante diverse quindi alla fine ognuno deve utilizzare la tecnica con cui si trova meglio il ferro di cavallo pam tata parlavamo dei ferri in cavallo ah ma manco come funzionano solo che io ci spero sempre lo dicevo prima sono quelle cose che se non fanno male se non fanno bene male non fanno quindi tanto lo tengo poi vediamo letteratura Dante aspetta è che se no ti perdo la divina commedia era un viaggiatore che si è fatto con delle erbe un viaggio astrale in qualche modo ma guarda sinceramente non lo so non conosco di persona Dante c'è da dire che alcuni a me è piaciuto soltanto l'inferno di Dante poi il purgatore ha cominciato a essere palloso il paradiso quando incontra Beraterice due zappole che mamma mia l'inferno invece era interessante molto ben descritto ovviamente come letteratura non che sia realmente esistente che sia così assolutamente ma come l'ha descritto nei suoi passaggi è bella come stesura poetica ricordo che so ancora a memoria tutto il conte ugolino perché mi ero innamorata di quella poesia di quel tratto dell'inferno Milena io interrompe ho sentito in un video che dicevi che le ombre nere che si vedono non sarebbero entità ma io sinceramente non ho capito bene cosa sarebbero allora vengono da altre dimensioni o pianeti sì esatto vengono da altre dimensioni non pianeti vengono dalla seconda dimensione perché sono esseri creature vive bidimensionali noi siamo creature vive tridimensionali quindi altezza per larghezza per spessore mentre invece gli omini di ombra sono creature vive vegete però che vivono nella seconda dimensione hanno solo due dimensioni altezza per larghezza ma non hanno spessore sì sì Dante però se lo te l'ho detto nella parte dell'inferno è bello da leggere e soprattutto da tradurre in qualche modo da capire ma poi dopo diventa una palla al piede col purgatorio e poi col paradiso proprio il peso totale definisce santi eh niente nei santi della chiesa ci sono i defunti normalissimi defunti cioè persone che sono morte che poi la chiesa ha deciso di chiamarli santi ma in realtà sono semplicemente dei defunti e alcuni completamente inventati che non sono neanche mai esistiti esatto l'inferno è un capolavoro il resto però è una palla sì sì Dante è sinferno PS3 sicuramente lo conosce il nano io non sono esperta in queste cose sono d'accordo sì sì l'inferno è la parte più bella più bella mi ero innamorata della parte del conte ugolino quando rosiccia il cranio l'arcivesco voruggeri in continuo e per parlare con Dante si pulisce il grugno nei capelli stessi di quello che stava rosicchiando una descrizione fantastica per gattare paradiso gli era passato l'effetto peyote sicuro o non ne aveva trovato altro perché sono sopravvissuta alla quarantena oddio si è scoppiata delle overdose di mese che adesso la disintossicazione sarà un problema come sono fatti gli arcangeli ognuno ha la sua forma come gli angeli uguali non ci sono arcangeli e angeli è la religione che gli dà quei nomi sono una razza della quinta dimensione che hanno forme abbastanza bizzarre però siccome sono capaci a metamorfizzarsi quando appaiono rarissimamente a qualche essere umano di solito prendono una sorta di sembianza umana perché se uno li vedesse nella loro vera forma non riuscirebbe neanche a concepirli perché qua sono tutti abituati a pensarli con le alucce laureola tutti biondi belli e boccolosi mammi la monica ciao mammi ora mi segui anche tu nelle rive sì sì esatto è tutta invenzione della chiesa in realtà sono dei semplici defunti quando sono esistiti quando non sono esistiti sono fantasy come tanti personaggi da loro descritti hanno piazzato hanno piazzato anche qualche divinità ah sì non è che le hanno piazzate hanno scopiazzato per potersi prendere i loro adepti quelli che gli convenivano se li sono presi e gli hanno cambiato il nome quasi tutti gli orisha della religione voodoo della religione yoruba sono stati metamorfizzati in pseudo santi cristiani proprio per acchiappare gran parte dei devoti della yoruba di un tempo aspetta che mi scappa aver bloccato quello che vedevo e sentivo per paura l'ultima volta che ho visto qualcosa e si può essere la paura blocca a volte i doni e le capacità assolutamente da morti dove andiamo nell'oltre domenico nell'aldilà nella quarta dimensione per l'esattezza aspetta che come si è detto tutto san giovese san mirto ma guarda io preferisco il sangue di giuda però rimaniamo sempre in tema religioso buono il sangue di giuda anche san mirto in effetti non mi fa proprio schifo mi è venuto in mente ma quando senti il tuo demone vai sempre in astrale ah no no mi si presenta proprio davanti io li vedo in real quindi non ho bisogno di andare in astrale ho anche una foto di frucissier da qualche parte che mi appare dietro la testa se la ritrovo te la faccio vedere sì Brigitte è una delle tue pam oh qua salta tutto aspetta eh dov'ero tutto quello che dicono che succede a Mediugore la Madonna i miracoli le visioni ma la Madonna mi pare una gran buffonata quella che dicono a Mediugore a prescindere che persino la chiesa cattolica ritiene che Mediugore sia una fregatura quindi ci sarebbe da aprire un fascicolo poi il discorso miracoli ne ho parlato anche su un video su youtube i miracoli sono tutto fuorché miracoli le visioni poi possono essere di due tipologie o allucinazioni indotte dalla nostra stessa psiche o effettivamente qualche entità che appare e che prende una sembianza diversa ma questo qua l'ho già spiegato anche in altre occasioni è una cosa scontata se io sono un'entità e voglio che fai una determinata cosa a me di apparirti come Cristo come Buddha come la Madonna come San Goku e come Sailor Moon non me ne frega niente se ti appaio in quel modo e tu fai quello che ti dico a me va bene a tutti i modi chi se ne frega ti appaio come se fossi Daitan 3 e poi tu fai quello che vuoi e poi mi dici ma Daitan 3 esiste io l'ho visto semplice ma io non mi interesso molto di quelle tecniche Milena la Kinect la sta testando Candida Adida una delle nostre colleghe lei è più propensa alla tecnologia investigativa io sinceramente investigazioni con le tecnologie ne faccio poche molto poche ma anche perché vedo tutto in real quindi non è che ho bisogno di testare determinate attrezzature sto usando la remè la maschera per fare i sogni lucidi per fare le regressive che ormai sono 7-8 mesi che faccio test e prendo appunti su quella però in generale sulla Kinect ha fatto da poco proprio un esperimento una prova mi pare Candida se si connette dopo se mai ce lo facciamo spiegare a chi veneri a Daitan 3 anche io tra l'altro io amo la sigla di Daitan 3 io la uso la mattina nelle cuffiette per darmi la carica proprio quando cominciano a dire e morte non ci importa nell'occhio l'avventura è la mia droga matutina che poi se uno prega prega ma infatti miracoli preghiere richieste via dicendo quando arrivano è semplicemente una questione di leggere attrazione è proprio quello il succo in effetti è la realtà più pura francesca così di provocazione pratica ah ecco bene la metafonia è un altro dei canali per poter fare ricerche io non la posso praticare e qua vi invidio sia a te e a tutti quelli e anche la mia collega appunto Candida che lei fa spesso metafonia eccetera io non posso perché sono sorda e quindi non posso poi analizzare gli audio che sento ma se no quella mi piacerebbe per esempio faccio a volte metavisione perché quella lì è una questione visiva e riesco a utilizzarla bene per fare delle ricerche però la metafonia purtroppo io non posso per questioni meramente fisiche ma anche noi ti amiamo figlia la puntata dove specchio nero mi sono incasinata con le dimensioni beh guarda non è semplicissimo da capire il discorso dimensionale delle dimensioni orizzontali verticali e trasversali come dicevo ieri anche in trasmissione durante lo specchio nero con Giovanna lucido dovrei fare uno schema disegnato ma siccome io con la matita in mano so solo grattarmi ci la schiena perché non sono capace a disegnare faccio schifo non lo posso disegnare se riesco a fare un grafico con i programmi di grafica del pc magari riesco a chiarire meglio le idee di quello che dicevo in quella puntata eh sì è da qualche parte nel mio computer ce l'ho Angela poi la la devo cercare no frucissier sì è psicopompo ma in generale quasi tutti i demoni e quasi tutti i pennuti ovvero gli angeli sono psicopompi loro possono gironzolare per la loro dimensione per la nostra per l'oltre quindi alla fine sono quasi tutti psicopompi come tipo di interno Elisa buonasera la vedevo sulle scale ma guarda perché probabilmente appunto non era la madonna e sicuramente non era neanche un demone anche perché i demoni non sono brutti e cattivi come gli angeli non sono tutti belli e buoni quindi sicuramente è facile che tu vedessi magari qualche entità ma era qualche entità burlona che aveva voglia di prendere in giro e appariva con quell'aspetto niente di più facile perché c'è pieno di quell'entità tra l'altro sì è vero Alessandra ma non la posso dire le mie consorelle la sanno ma non la posso dire pubblicamente a posto c'ho la figlia sul trono che ce lo fa presente il tuo demone ti picchia ma devi anche mettere che ogni tanto te le meriti il santo Tanuki allora petta eh in sogno lucido mio caro amico defunto è da tanto che non viene più in sogno può essersi reincarnato può aver continuato il suo percorso anche di là perché anche di là a volte si possono intraprendere dei percorsi e delle situazioni da portare a termine comunque in ogni caso sì sicuramente ha continuato in un modo o dell'altro è andato avanti dopo un po' vanno avanti anche loro non è che restano incollati intorno a noi anni fa di captare voci con il registratore ma non riuscivo a capirla hanno un linguaggio strano mmm si dipende che lingue parlano tutto dipende a chi becchi io avevo qua per casa l'etrusco che non sapeva usare la telepatia e parlava solo in antico etrusco quindi vallo a capire che cavolo ti diceva in compenso era innamorato dell'oblò della lavatrice continuavo a guardarlo tutte le volte che lo azionavo e stava lì come una pera finché non finiva tutto il ciclo contento a lui sono psicopompi per forza psicopompo significa solo che può viaggiare attraverso la dimensione dei defunti e la nostra e se non lo possono fare i demoni e gli angeli chi lo fa? buonasera Ornella tutto quello che ho sentito è stato rallentato la metafonia mi ha impression mi fa impressionissima si molte volte non hanno non hanno proprio l'idea del tempo di parlata per questo a volte quando vanno quando poi li metti in rallenti in slow si capisce qualche parola a volte sembrano a ceri biribicodac poi io che sono sorda quando mi parla una voce ogni tanto li guardo eh proprio così tranquilla era chiesta il mio nevoneguido per conoscerlo l'avevo fatto con la cannella viola in cera d'api ma non avevo specificato il modo eh sì forse è meglio che la rifai e specifichi meglio proprio tutte le le situazioni di modo che poi anche tu sai dove andare a vedere a guardare e a stare più concentrata per il demone ciao simona buonasera per non farsi togliere energie dall'entità eh l'unica è cercare di caricarsi imparare bene a farsi la schermatura una una metista addosso e imparare benissimo la visualizzazione della schermatura sono le uniche due cose ma comunque un po' ti consumano lo stesso quando sono sopra pensiero mi arrivano parole in tre frasi perché probabilmente quando sei sopra pensiero inneschi il meccanismo che ti apre il canale uditivo Loredana i canali si aprono nelle maniere più astruse a volte e si chiudono anche nelle maniere più astruse tipo la legge di attrazione senza avere il colpo di ritorno cioè fino a dove possiamo chiedere senza avere problemi il discorso del chiedere è complesso perché bisogna stare attenti non tanto a cosa chiedi ma a come formuli la domanda in ogni caso qualsiasi cosa ti venga data per tua richiesta ha uno scotto da pagare che sia piccolo o che sia grosso in base a quello che tu ricevi devi dare in cambio in un modo o nell'altro quindi o ti organizzi e dai in cambio prima di chiedere allora poi sei in credito rispetto all'universo oppure qualcosa bisogna scambiarlo per forza sulla ah la genesa utilizzata per i riti collettivi qualcuno dice che sono pericolosi perché se ci fosse uno con una maledizione a tira verso il basso anche gli altri del rito beh sono cavolate che c'entra la genesa o la pentasfera sono solo degli amplificatori energetici che servono per ribilanciare e aumentare le vibrazioni di ciò che la persona o il gruppo sta inviando io posso avere anche 15 maledizioni ma se in quel momento sto inviando un messaggio d'amore tra virgolette è quello che sta vibrando mica le mie maledizioni personali però le so cavolate ma è un luogo sacro come come tutti gli altri che si sono autocreati e inventati quelli della chiesa a Fatima hanno visto di nuovo un'apparizione della Madonna appunto la Madonna di Fatima e e la chiesa se ne è subito approfittata per guadagnarci con santini e visite guidate peraltro Fatima è uno di quei posti sfigatissimi che tutte le volte che ci vanno i pullman a fare l'Egitto cosa o finiscono giurando un dirupo o vengono distrutti o fanno un incidente una cosa tremenda quindi c'è anche poco da essere particolare cos'è il cubo di Metatron è un altro dei vari aggeggi attribuiti appunto all'angelo Metatron che poi siano veri o meno che credo poco Metatron un tempo era Enotch era un essere umano secondo la mitologia mitologia pre-cristiana e cristiana Enotch scriveva tutto quello che vedeva attraverso le sue visioni appunto di angeli e via dicendo fin quando poi il dio abramitico decise di trasformarlo in angelo così perché non sapeva che cavolo fare e gli ha cambiato anche nome perché l'angelo Enotch non gli piaceva l'ha chiamato Angelo Metatron non credo molto a quel tipo di attrezzature a quel tipo di talismani legati alle religioni e si autumno ognuno ha la sua posizione io sono sorda come una campana però per esempio quando mi sdraio a pancia sotto e con questo orecchio qua che è quello completamente sordo tappato anche io sento farfugliare parlare lingue strane di tutto perché deve essere proprio la mia posizione per il canale uditivo esatto Pamela tutte cavolate proprio dove sei tranquilla fra nei riti collettivi non ce n'hai infettivi oh c'è la mia ballerina di ballerina la mia insegnante di zumba preferita io non faccio zumba perché se c'è proprio pieno infarto però quando guardo i tuoi video mi stanco io a guardare la mia Ilaria no Pam meglio che non ci vai guarda la fatima è tra veramente tra le location più sfigate che ci siano lascia perdere piuttosto ha fatti il cammino di santiago almeno è sicuro questi mi hanno detto che i luoghi come fatima mi ricordi contengono molte gregore eh sì anche anche in effetti non le ho nominate prima ma hai perfettamente ragione nel senso che prima dicevo le apparizioni possono essere o indotte dalla convinzione mentale o possono essere entità che sfottono ma in effetti possono anche essere delle vere e proprie gregore create dagli esseri umani stessi che poi nel caso delle divinità non si dice gregore ma si dice tulpa però è la stessa cosa è un'entità creata dalla mente collettiva di chi ci crede è la stessa identica cosa utili per attirare qualcosa tipo amor abbondanza economica allora i sigilli possono tutto il sigillo in sé creato appositamente però per quello scopo non è che prendi un sigillo qualsiasi e poi decidi tu per cosa deve valere è il contrario devi scegliere il sigillo adatto c'è da dire però che anche nel caso del sigillo se ti arrivano troppi soldi o ti levano l'amore o ti levano la salute se ti arriva più salute o ti levano i soldi o ti levano l'amore se vuoi più amore o ti levano i soldi o ti levano la salute quindi se sei abbastanza bilanciata resta così come sei puoi comprare tante cose belle c'ha ragione Masuru ciao Eli si tulpa 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 o egregore alla fine praticamente la stessa cosa solo che il tulpa viene utilizzato come terminologia quando parli di divinità create dalla mente mentre invece l'eggregora è un'entità tra parentesi quasi serva che viene creata dalla mente degli occultisti dei negromanti e degli stregoni in genere o delle streghe in genere ci vuole sempre comunque un'energia collettiva per crearli e non è giusto ma l'universo ti risponde Alessandra se non è giusto lo pesiamo perché non è neanche giusto che uno abbia tutto in una vita terrena anche perché le vite terrene lo ripeterò in eterno sono una giornata di scuola la nostra grande vita tanto importante per noi quando arriviamo di là la guardiamo ma guarda quanti problemi mi sono fatta per sta cacata parlando proprio bene 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 fine 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 come sono fine io perché in effetti è una giornatina ecco la candida candida inizia a commentare che qua vogliono sapere della macchina che carnic carnic quella che hai fatto da poco lo voleva sapere un utente ma l'hai fatta tu io non ho molta esperienza in quel in quel macchinario kernak kernak l'ho letto prima ma poi me lo so fumato kinect eccola è riapparsa Milena vai adida ovvero candida spiegaglielo a Milena che tu sei ferrata in materia che tu sei valare con i soldi infiniti al monopoli esatto esatto e senza passare da parco della vittoria ciao ciao Maria Teresa buonasera e sarà che non ti piace però tu la conosci io non sono pratica di queste cose quindi dacci qualche illuminazione celestiale sei tu quella tecnologica in questo senso nel campo della ricerca tipo Ronaldo il cacciatore per dire a tutto mica l'universo gli ha tolto qualcosa aspetta aspetta intanto puoi avere tutto è solo che ce l'hai per un breve periodo non per tutto il ciclo di quell'esistenza reincarnica Ronaldo è nato povero pezzente con i denti storti è diventato ricco dopo lo hanno preso per il culo tre mogli mica una tre ora non so se effettivamente con l'amore vada bene ma fino a qualche anno fa l'ultima papaparabarabapapapá c'ha figli sparsi a destra a sinistra e un domani non so come andrà avanti è ancora abbastanza sueno si dice a Genova quindi il discorso di avere tutte e tre le cose e sì per brevi periodi puoi anche averceli ma sono brevi periodi non è tutta una vita con tutte e tre se ci fai caso, nessuno anche quelli più famosi prima diretta che vedo non sto capendo niente ciao Silvia sai perché? perché stavolta sono riuscita a condividerla in real da tutte le parti allora sta arrivando più gente però alcune erano quelle che hanno già visto le altre quindi riprendevamo i discorsi ma tu non ti preoccupare nelle mie dirette puoi parlare di qualsiasi cosa basta che non mi chiedi qual è il detersivo migliore e le ricette di cucina perché lì io non sono pratica ma se vuoi anche parlare di come si appende un chiodo come si aggiusta un impianto elettrico va bene mi sono persa qualcuno allora a volte prende ombre e forme e la trasforma in entità sul video per me è poco realistica e io sta cosa qua proprio la conosco pochissimo la conoscevo per nome e manco tanto perché poi me lo scordo pure il nome però non ho mai indagato adesso mi state mettendo pure curiosità mannaggia voi prima della diretta stavo vedendo il grande fratello uno specchio a fare una bimba inquietante gira il video su poi in privato te lo giro ah ok sì sì poi gira me lo mandi su su messenger chi ha mangiato io sì ho mangiato i finocchi al vapore e un panino con la pancetta perché ero di corsa stasera sapone di marsiglia è meglio chiederò al marito lui che si interessa di questo tipo di lavori a casa quindi dopo mi informo voglio rinascere Ronaldo mica male pure che poi diventa povero o perde l'amore 80 anni ormai andata non lo so sai io ti dirò tutto sommato con l'amore sto bene tutto sommato con la salute mi sono salvata da mille e mille patologie anche grosse e sto bene ho le pezze al culo pace me le tengo alla fine tanto ci sono abituata sono 47 anni con le pezze al culo poi uno ci fa il calo come i macachi a me basta non chiedere soldi ma anche perché se me li chiedete non ce l'ho quindi potete chiedere quanto volete perché scappi via ma dai vabbè allora buonanotte Milena tanto questa rimane online e poi io comunque le salvo tutte le stirpo tutte e me le metto tutte anche sul canale youtube quindi non si perdono c'è chi ha tante e chi ha niente allora l'universo è una cacata no semplicemente l'universo non è politically correct il politically correct lo hanno inventato gli esseri umani come gli dei giusti che giudicano che tu sei buono che tu sei cattivo ti premiano ti puniscono sono tutte invenzioni l'universo non ti premia e non ti punisce anche perché ripeto l'arco di una vita terrena quando siamo di là corrisponde a una giornata nemmeno a volte a quelle 4-5 ore di scuola che andiamo al mattino se una mattina prendi 9 e la mattina dopo sbagli un compito in classe e prendi 5 e gliene frega niente a nessuno alla fine quindi se in una vita ti va tutto male e poi nell'altra magari ti va tutto bene gliene frega niente a nessuno siamo noi vivi che diamo importanza a queste vite che per noi sono lunghe ma una volta che siamo di là queste vite qua sono una caccoletta aspetta eh che qua è salito tutto ciao Isabella buonasera tanto abbiamo un po' cazzeggiato più che altro sì io ci sono anche su twitter volendo non vi preoccupate io sono dovunque sono come il prezzemolo dov'è aspetta che mi perdo Maria Teresa se posso ho visto in alcuni video il tuo tato come ha iniziato a essere come te c'è nato anche lui come me uguale uguale sta studiando le tue stesse cose come vivete il tuo mondo a parte il marito che ogni tanto quando succede qualcosa di particolare mi si terrorizza un po' però per il resto io e nano lui ci ha abituato su 13 anni che vive a sto mondo ogni tanto qualche volta qualche scanto se lo prende ogni tanto mi dice ma ne ho visto uno brutto perché magari vede qualcuno di qualche altro pianeta o che e che sono un po' fatti strani e allora ancora lui qualche botta ce l'ha io meno però in generale ci ha abituato anche lui per lui la normalità come per me le grandi ingiustizie del mondo sono sempre scelte e certo sono sempre scelte sì perché sono esperienze è un'esperienza è come se io mi alzassi io sono l'anima mi sveglio stamattina e dico domani faccio un giorno di digiuno io voglio provare a fare un giorno di digiuno per vedere se mi purifico se vado meglio al bagno o qualsiasi altra cosa è la stessa cosa alla fine quando siamo di là per noi sono 3-4 ore tutta una vita intera nel senso come rapporto di importanza parlo ha poco senso ma sì per una volta vengo schiacciata da un autobus chi se ne frega vediamo cosa si prova ecco siamo noi a dare un'importanza diversa a questo tipo di eventi quando siamo di qua però per i pezzi ciao stefania come concetto perché altrimenti non si spiega ma il karma è sempre mal interpretato la gente pensa che il karma ti rende quello che hai fatto perché ti fa giustizia no non ti fa nessuna giustizia il karma è la ridondanza delle vibrazioni che tu hai emanato quindi se tu mentre fai una cosa emani vibrazioni positive stai ammazzando qualcuno però per te è giusto e stai emanando positività mentre lo accoltelli il karma ti fa tornare indietro cose positive perché è la tua stessa vibrazione che torna non l'atto che tu stai facendo ne pensi d'ora in virtù gli oracoli che ha fatto sono molto belli ma il resto mi lascia ma guarda sinceramente non è che ho seguito tantissimo la situazione sì gli oracoli sono abbastanza belli veramente ben fatti devo dire che comunque tutti i personaggi che poi prendono una certa importanza a livello popolare hanno sempre in qualche modo infilato pezzi di varie religioni io quando dico religioni non parlo del cristianesimo e nemmeno delle abramitiche in generale io parlo di tutte le religioni e anche di tutte le filosofie quindi dal buddismo all'islam alle antiche religioni pagane tutte le religioni e invece di solito le persone che in qualche modo prendono il pubblico sono sempre quelle dove c'è qualche dio qualche dea alla quale puoi chiedere favori perché l'essere umano internamente è opportunista e ipocrita a prescindere si caccia sempre dove pensa di poter avere aiuti e guadagno non in senso di soldi proprio guadagno per se stesso in generale Pina buonasera ciao Marcella detta Barbara o meglio Barbara detta Marcella buonasera uh come andate veloci quante siamo quasi 30 a volte come scrivi a volte penso che non puoi andare per vedere che succede ma poi quando sei di là gran parte delle cose te le ricordi subito e quindi alla fine lo sai cosa succede a me è una ruota che gira ho visto i tuoi video sul karma e pensavo che karma vuole essere dire azione e conseguenza non è un'azione una conseguenza il karma è più che altro si si può anche definire così però è più che altro un ritorno vibrazionale quando tu butti la pietra nello stagno che fa le onde tu sei quello che fai la tua azione è la pietra ma poi è l'intensità con cui tu fai quell'azione che crea più o meno onde l'eternità l'eternità non è noia ma non c'è un'eternità vera e propria perché noi torniamo di qui poi di là facciamo altre cose poi ritorniamo di qui e comunque di là il tempo non esiste quindi di là dire dieci minuti e dire l'eternità è la stessa cosa non esiste proprio non c'è il tempo non passa non scorre presente passato e futuro sono tutti lì nella dimensione trasversale di cui parlavo nella trasmissione dello specchio nero allora quello che mi lascia con la tua propria si dà il fatto che afferma che gli angeli agli angeli si può chiedere tutti ci sono sempre per aiutarci che non è vero ma dico io avrebbero nient'altro da fare tra l'altro ma poi guarda dell'entità della quinta dimensione angeli che ti aiutano ogni 15 forse ne trovi uno se si sveglia di una buona perché se no non te caca proprio è la fissazione legata alla religione che ti dice l'angioletto custode ma gli angeli proprio non te cacano cioè il mio tutte le volte che gli chiedo un consiglio mi guarda e mi dice fa come te pare simpatico per dire i guardiani proprio ti guardano dall'alto in basso potessero ti sputerebbero anche in un occhio gliene può fregare meno quelli che niente niente un pochettino di più si interessano a dare una zampetta ogni tanto quando serve sono i tutelari qualche demone come razza qualche divinità preposta anche lei però quando si sveglia di una buona e poi dipende chi perché non sono tutte uguali caratterialmente gli intruders che normalmente però aiutano i defunti ma se no le altre razze grossomodo non è che ce cacano più di tanto formule in latino che funzionano davvero formule in generale che funzionano davvero ce ne sono sì ma non c'entra niente che siano in latino in latino è una lingua ci sono formule in latino che funzionano ci sono formule in italiano che funzionano ci sono formule in greco che funzionano in aramaico antico che funzionano in inglese che funzionano e ce ne sono tante che non funzionano anche se le reciti in latino è questione di linea credo Angela perché a me non si sta bloccando niente esatto anche Kaliel deve essere cugina di Yahel perché hanno un grande interesse verso il cacarci sì esatto erita i guardiani se ci devono vietare qualcosa sono lì che sembrano un'incrocia tra Bud Spencer e Rocky Balboa ma quando poi gli chiedi una cosa te guardano con sufficienza se girano dall'altra parte e tu simpatici che peraltro noi lavoriamo per loro ma vabbè simpatici continuo a sostenerlo sì esatto Angela è l'intenzione ed è anche soprattutto comunque il significato in sé della formula poi puoi recitarla in qualsiasi lingua la lingua non conta le parole le parole magiche di Tenka si le usa tanto appunto Adida di nuovo Candida lei usa tanto segue tanto Tenka in effetti ho verificato anche io che alcune formule se quelle di Tenka se dette con una certa convinzione una certa enfasi un pochino funzionano in effetti è vero ne parlavo prima gli arcangeli e gli angeli sono la stessa razza il nome angelo o il nome arcangelo se lo sono inventato gli uomini sono la stessa razza il mio angelo Yahel e l'arcangelo Uriel sono tutte e due della stessa razza non c'è una gerarchia di grandi di capi e di meno grandi ma infatti la Tanuki è il tuo demone vedi io ho frucessier che appena gli chiedo un consiglio un aiuto per qualcuno da seguire più che altro per la medicina perché lui è legato alle malattie però come gli chiedo un favore mi appare davanti che al momento si viene a prendere anche il caffè quando devo andare a chiedere a Yahel al momento devo comprarmi la tromba paradisiaca per cercarlo quindi ho anche i libri se no in generale tutte le formule Alessandra non conta che siano in latino conta la formula in sé cosa significa e quanto tu ci metti sopra nel recitarla e infatti Pamela noi e i guardiani abbiamo dei rapporti fantastici se io uso una frase forma magica di una lingua che non capisco una mazza esatto esatto se non capisci una favari quello che stai dicendo non ha nessun senso non può funzionare a prescindere il film era visto comunque alcune divinità conosciute sono in realtà delle entità elevate appunto io le chiamo divinità preposte però sono entità della quinta dimensione a volte anche dalla sesta qualcuno ma molto spesso è la stessa divinità che però più popoli nel mondo hanno chiamato con nomi diversi ma è sempre quella l'entità però sì alcune esistono e come solo che sono entità elevate non sono degli dei veri e propri ma ancora Biglino mamma mia non lo so io non l'ho letto sugli angeli sinceramente Biglino lo conosco perché ho un'amica che sicuramente se mi sta ascoltando ancora ma non lo so perché lei c'ha la linea che ogni tanto la perde lo segue tantissimo io da quello che ho potuto capire è fissato con gli alieni con gli annanuchi e con tutte quelle robe lì che per me invece sono delle emerite bagianate ora sugli angeli non ho seguito la la specifica di quello che ha detto sicuramente me lo andrà ad ascoltare ma già quando parla di alieni e quelle cose lì io ci credo poco non agli alieni io agli alieni so che esistono io non credo che vengano qua sul pianeta terra a venire a cacare a noi che siamo una caccola dell'universo lo dico sempre e vengono a cercare a noi non sappiamo ancora neanche dosare la roba dentro un microonde e secondo alcuni vengono qua a cacare a noi ci credo poco vabbè poverino Boeing è un uomo di Neandertal è già tanto che riesca a pensare qualcosa povero e credo anche io Pamela sì che siano semplicemente perché sono mirate proprio come intento e basta ma guarda che i demoni non sono brutti eh come gli angeli non sono belli quindi non ti fanno venire e mi hai iscritto Marcella ma io non ti posso rispondere ora sono in diretta i privati li posso aprire quando finisco tutta la diretta ma tutti abbiamo un demone guida Pamela tutti quanti abbiamo un demone guida abbiamo un angelo guida un demone guida un suggeritore uno spingitore un totem e l'altro non me lo ricordo mai come si chiama come tipo di di entità comunque tutti quanti abbiamo o 5 o 6 a volte pure 7 guide in giro intorno dopo che mi ricordo di magia ritualistica mi ricordavo che ci voleva è certo che ci vuole convinzione ma quello per tutto anche quando fai un rito nel Bibbia di Biglino non la credi no oggettivamente io non credo che gli alieni siano mai venuti sulla terra non che non esistano ci sono su altri pianeti ma di sicuro non vengono a cacare a noi è questo che io non credo che poi fossero venuti forse in passato potrebbe anche starci non credo che siano ancora qua guarda la Bibbia l'hanno tradotta in 1200 modi diversi non solo nel modo di Biglino ci sono mille traduzioni diverse ne parlavo anche in un video che addirittura non è una Bibbia in quel caso è uno dei Vangeli si narrava che erano stati tre Gesù Cristi poi due Gesù Cristi poi Gesù Cristo non esiste ma era Horus le hanno tradotte in mille modi diversi purtroppo nessuno riesce a mettersi d'accordo sulle traduzioni bibliche per me è un libro fantasy come il Signore degli Anelli ma la Bibbia stessa a prescindere da come la traduci tenendo conto che sono Cristiana se dovessi chiedere aiuto per qualsiasi cosa ti bisogna chiamare secondo le tue conoscenze ma dipende che tipo di aiuto intendi Maria Teresa perché certe cose possono essere aiutate appunto con la legge d'attrazione con una fiducia in qualcosa con il dare qualcosa in cambio con una vibrazione positiva da dare all'universo in cambio di un favore positivo allora sì però dipende cosa chiedi perché se chiedi voglio diventare ricco voglio diventare ricco oppure sto per morire no voglio vivere voglio vivere voglio vivere non puoi se non muori perché non era il tuo momento in effetti quando anche una persona sta male non bisogna mai pregare tra virgolette pregare che si salvi per forza che non muoia si deve sempre pregare che stia il più bene possibile se vuoi fare una preghiera una preghiera nel senso di richiesta che sia un dio che sia un universo se vuoi fare il bene di questa persona devi chiedere che stia meglio poi se sta meglio viva vive se sta meglio morta muore l'importante è che non soffra se lo fai per quella persona se invece lo fai per te perché non puoi stare senza vederla allora è un altro tipo di maniche ma non è un aiuto che chiedi poi appunto dipende dai casi dipende dalla cosa chiedi ho perso i pezzi il totem può essere certo che può essere un uccello il mio totem è un corvo tra l'altro tra l'altro autum il signore degli anelli è molto più bello è anche molto più concreto ci hanno creato loro sì ma tu biglino non l'hai mai sentito scusa non puoi capire comunque ognuno ha il suo pensiero sì certo io sto dando il mio sulla base delle domande che mi fanno io sto dicendo che io non credo non sto dicendo che non si debba credere non si debba credere a biglino io l'ho ascoltato poco perché appunto ho ascoltato qualche video ma non credendo a tutta sta sta cosa sul fatto che siamo così importanti per degli alieni ho piantato lì e non l'ho più seguito tutto lì ma io rispetto chi creda ad altre cose per carità io rispetto chi crede al dio cristiano rispetto chi crede a maometto e rispetto chi crede agli alieni quella è una cosa personale che c'entra tutte le traduzioni sono sbagliate no secondo me è proprio la bibbia che non è un libro sacro ma tutti i libri sacri non sono libri sacri sono invenzioni di qualcuno tra l'altro la bibbia è uscita 400 anni dopo che Cristo secondo la bibbia era già morto quindi sarà stato un libro fantasy in merito alla legge d'attrazione lo hai letto il libro The Secret tanto pubblicizzato non l'ho letto non l'ho letto ma io ho una certa repulsione a leggere le esperienze e le idee degli altri per il semplice fatto che tutti quanti tutti finora almeno indistintamente hanno messo insieme al loro pensiero alla loro idea alle loro esperienze delle concetture delle concetture che comunque sono filologiche con le religioni o con le filosofie già esistenti e siccome dal mio punto di vista nessuna religione e nessuna filosofia di vita terrestre hanno azzeccato un'emerita pippa su quello che è l'invisibile su quello che è l'universo chiamiamolo così o l'oltre che dir si voglia quando poi ci mettono la loro credenza personale a me scende tutto e quindi non riesco a leggerli io certi tomi alieni e bibbia io ho sempre pensato che l'immacolata concezione fosse stata una fecondazione artificiale aliena interpretata in quel modo ho visto documentari ma io invece non credo proprio che la madonna sia mai esistita quindi di conseguenza nemmeno l'immacolata concezione perché non è stato concepito nessuno io non credo che sia mai esistito né Cristo né la madonna né tutta la favoletta di Nazareth esatto Pamela gli invii luce chiedi che stia meglio che stia al meglio per lui o per lei allora è una richiesta valida per l'universo a livello genetico noi abbiamo un genoma alieno ma sì ma potrebbe anche essere ripeto in passato si parla di predinosauri può anche darsi che qualcuno qua ci sia arrivato può anche darsi che nel corso della storia qualcuno sia anche passato ma non credo che siamo importanti per loro tutto lì che esistono lo so ho le mie certezze li vedo i defunti alieni sono come i defunti terrestri muoiono anche loro e quindi li vedo perché di là non ci sono i pianeti nell'oltre siamo tutti insieme e la forma a volte la mantengono delle vite che hanno fatto su altri pianeti che poi anche lì per esempio i medium del passato quelli veri hanno interpretato male per colpa delle religioni proprio queste forme vedevano esseri strani o con gli occhi lunghi o con antenne o con quant'altro e li chiamavano li identificavano come demoni perché per loro erano brutti e secondo loro i demoni erano brutti ma il demone con quattro tentacoli otto zampe e i dentoni di fuori non c'entra niente probabilmente invece qualche medianico vedeva qualche defunto con l'aspetto di qualche altro pianeta quello sì assolutamente intente per il bene dei figli tipo fallo stare sulla retta via ah no sì quelle sì spera che gli vada bene che la via sia corretta che non cada in pericoli quello lo faccio anch'io per il mio di figlio ci mancherebbe quella lì è una richiesta valida non chiedi una cosa materiale o un desiderio non è un desiderio da esprimere come fanno i religiosi è proprio una speranza che tu mandi all'universo quindi è un discorso diverso e tu la pensi così bah tu pensi che noi siamo tanto importanti io penso che siamo la caccola dell'universo tra l'altro siamo i meno spirituali dell'universo siamo proprio ancora ai livelli primitivi in spiritualità tempo vivevo con i miei genitori anziani di vedere loro tutti quelli che mi circondavano come attori parlavano come per caso di cose che pensavo io oppure che capitavano a me mi venivano degli odori buoni e cattivi e i suoni anche parevano come se fossero fake il canto degli uccelli il cane cabaia l'aereo parevano di essere sempre gli stessi che si ripetevano i vicini che trascinavano i mobili sempre tanto rumore per più di due mesi è stato così non riesco a capire ma guarda è una cosa che ti dico la verità mi è successa un paio di volte anche a me di trovarmi quasi come se fossi non dentro al corpo ma accanto al mio corpo e vedessi tutto in maniera ovattata sentissi tutto in maniera ovattata come se fosse proprio la verità giusta un film che scorre non so cosa sia forse credo sia un momento di dissociazione dell'anima dal corpo però non ho basi sicure su questo so che l'ho vissuta un paio di volte anche di più però non ho ancora un'idea precisa su cosa possa essere quel tipo di effetto esatto ma mica solo nella bibbia in tutti i libri considerati sacri o di grandi verità nel tuo libro la tranquilla ecco brava l'indirizzatrice l'indirizzatore non me lo ricordo mai sto termine sono io ho una memoria che fa schifo infatti dico sempre io dico sempre le cose vere proprio perché avendole vissute le conosco perché se io mi dovessi inventare una balla il tempo che la racconto mi sono già scordata cosa ho detto perché ho la memoria a breve termine che fa schifo ciao Anna Maria buonasera è quello Federica noi a volte pensiamo di ma è perché siamo sempre lì è la religione che ci mette su un piedistallo se pensiamo a quanto è vasto l'universo a quanto è vasto il cosmo quanto possiamo essere importanti noi siamo importanti quanto un formicaio in un prato di 20 km quadrati come rapporto anzi neanche come un formicaio come una formica singola il religiosico a me non va l'arroganza di sapere tutto oh sì che poi arroganza di sapere tutto ma poi non sanno niente perché nel momento in cui tu gli chiedi la specifica del loro ragionamento loro ti rispondono perché devi avere fede cioè praticamente mi devi credere a prescindere zitto muto e continua per la tua strada che non è esattamente un modo di ragionare non solo da Iside e da Ishtar hanno preso un po' di pezzi qua e là comunque sì sono tutte scopiazzature a prescindere anche le feste stesse erano tutte feste pre cristiane esistono alcune cose tipo bimbi che dicono di averla vista senza sapere nulla o alcuni miracoli come dicevo prima i miracoli Alessandra sono tutt'altra cosa non li fa la madonna poi il fatto che tu stai pregando la madonna e ti succede è semplicemente per legge d'attrazione ma tu stavi pregando la madonna e quindi sei tu che ti convinci che è stata la madonna a dartelo in realtà lei hai chiesto tu per legge d'attrazione all'universo i bambini che vedono la madonna è come il discorso che dicevo prima per quanto riguardava Mediugore eccetera se un'entità ha necessità che tu faccia qualcosa creda a qualcosa perché ha bisogno che lo fai perché l'oltre perché l'universo ha bisogno che tu fai quel passo in un certo modo non gliene frega niente di apparirti come la madonna come Iside come Osiride o come Buddha basta che se tappare tu lo fai va bene tutto ciao felicità importanti anzi per gli alieni schiavi no il discorso dell'importanza era riferita è generico anche al discorso religioso e via dicendo ma ecco tu dici che siamo schiavi o che siamo bestiame o quant'altro io dal mio punto di vista non c'è cacano proprio cioè non siamo nell'una nell'altra siamo zanzare però ti ripeto io rispetto il tuo pensiero però non riesco proprio non riesco a credere che un alieno sia interessato né a farmi ingrassare né a studiarmi tantomeno a venirmi a trovare ci sono esseri che vengono definiti come rettiliani intendo come aspetto non i complottisti di cui parlo sì ma gli aspetti gli aspetti degli abitanti di altri pianeti ce ne sono tantissimi ci sono i rettiliani ci sono gli insettoidi quelli che vengono chiamati siriani da Sirio non siriani dalla Siria ma una marea adesso non me le ricordo io tutti ma sinceramente su altri pianeti sì quella forma lì c'è anche come ce ne sono tante altre io ho visto defunti con delle forme sia descritte in varie circostanze da noi esseri umani e sia in forme che invece di cui nessuno ha mai parlato probabilmente qualcuno che ha qualche input o che in qualche modo riesce a vedere sicuramente qualche defunto che ha quella forma come vi dicevo che li vedo anche io allora qua peta coperci il filo cannon reflex 25 anni ho avuto una visione positiva di una persona credo che sia una divinità antica premetto che faccia uso di cristalloterapia e dell'energia del chakra secondo lei come mai possa essermi successa questa cosa ha un fondo un fondo di significato potrebbe allora le divinità molte divinità antiche sono come dicevo prima delle entità elevate noi le chiamiamo divinità ma sono delle entità elevate della quinta dimensione e a volte della sesta hanno la stessa consistenza animica dei demoni degli angeli dei guardiani degli intruders dei tutelari di tantissime altre razze di entità quindi può succedere che ci siano anche delle entità che in qualche modo sono già conosciute sul pianeta terra dagli umani terrestri e quindi abbiano in qualche modo un nome un nome dato dagli esseri umani per cui sì potrebbe essere una tua guida potrebbe essere legata a te da qualche compito da qualche cosa che devi portare a termine potrebbe essere un'entità elevata che in qualche altra vita ha avuto a che fare con te e quindi in qualche modo ti è rimasto il collegamento animico ce ne sono tante dispiegazioni tempo fa hai detto che avevi una famiglia ignomi no erano fatine non sono ignomi gli ignomi ce li ha liona in casa io le fatine nel vaso della rosa ma no comunicare no nel senso che li sento però loro fanno dei rumorini piccoli 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 ma non capisco cosa dicano so che parlano però la loro lingua non la parlo comunque il piccolo popolo sono creature vive vive vegete non sono entità a me è capitato di sognare di camminare per la mia città e vedere che tutto intorno era in epoca ottocentesca aspetta che ho perso il filo sembrava così reale però io ero solo una spettatrice che guardava ti chiedo questi tipi di sogni c'entrano con la multidimensionalità o è stata solo la mia mente potrebbe essere sia un sogno che in qualche modo ti ha fatto affacciare su un'altra dimensione appunto di quelle orizzontali parallele con un tempo un tempo di epoca differente o potrebbe essere un ricordo animico di qualche tua vita passata che è tornato alla mente dall'anima stessa dai ricordi dell'anima e poi il tuo cervello umano ha rielaborato come se fosse un ricordo tuo di questa vita a sogno e si infatti alla fine è un sogno regressivo potrebbe essere era quello che stavo dicendo infatti prima ma mi si fermano tutte le domande insieme poi magari mi arrivano tutte insieme ci scio in mezzo la mia batteria regge c'ho il 20% finché regge bene quando non regge più quando scompaio non regge più ricordo il titolo memoria animica sì ci ho fatto dei video ora i titoli ho fatto 700 video Angela non me li ricordo tutti i titoli dopo vado a vedere così magari lo ritrovo sì comunque mi pare che c'hai ragione memoria animica sogno di volare una sensazione bellissima è come se il corpo sia leggero beh anche lì però nei sogni di volare dipende perché se sono sogni lucidi stai realmente svolazzando con l'anima se invece sono sogni normali è soltanto a volte la voglia il desiderio che abbiamo di staccare la spina da certi problemi magari che abbiamo in quel periodo di vita e sogniamo di volare come se volessimo scappare da tutto ed è psicologico dipende dal tipo di sogno guarda Maria Teresa per il piccolo popolo l'unica cosa è farci bene l'occhio una volta che ci hai fatto bene l'occhio li vedi da tutte le parti ecco io devo assumere Angela come segretaria ufficiale perché lei ha imparato a memoria tutti i miei video se mi accadesse morirei di paura esagerata chiara non si muore di paura tranquilla per questo l'universo non manda segnali e invece vedi più credi e più magari impari anche a fare una bella meditazione e più riesci a vedere ed è importante vedere non chiudere gli occhietti perché c'hai paura normalmente che c'è un'altra bella che c'è un'altra bella che c'è un'altra bella e sì l'attrazione soprattutto per un'epoca significa che in quell'epoca molto spesso abbiamo avuto una delle nostre reincarnazioni che ci è rimasta maggiormente impressa nel bene o nel male a volte poi quello dipende per esempio per esempio perché i mnemonici hanno perso quasi tutta la loro memoria e ricordano solo un particolare se nel particolare c'è uno shock una grossa emozione che sia bella o che sia brutta tendono a ricordarla e allora ripetono sempre quel pezzettino che ricordano i repeater invece decidono loro di ripetere molto spesso perché appunto perché devono o secondo loro portare a compimento un qualcosa o perché quel pezzo della loro esistenza gli è rimasto particolarmente a cuore ho perso il filo mamma mia tutti insieme lo sapevo come segretaria vabbè però quelli che hai visto te li ricordi tutti io li ho registrati e non mi ricordo ma con i titoli in caso ti conosci dove un repeater è riuscito a ricordarsi della sua esistenza e ha smesso di essere repeater per ora no i mnemonici sono quelli che dimenticano più che altro però si anche ripite a volte ricordano solo dei pezzi sono un po' mescolate le due le due categorie comunque no per ora no ma dal loro punto di vista il tempo non esiste quindi da parte loro che ci stiano mille anni o che ci stiano un secondo non gli cambia niente non si reincarnano più perché sono legate a un luogo non sono legate si sono auto legate loro a un luogo però essendo famose li pensano tutti li ricordano tutti ne parlano tutti quindi comunque loro continuano ad assorbire un sacco di energie sono molto energetici non hanno bisogno di reincarnarsi cioè reincarnarci non è la nostra mira principale noi veniamo qua perché dobbiamo creare nuove energie ma se le energie le prendiamo da qualche altra parte o abbiamo lasciato dei ricordi grossi che ce le manda ce ne frega la mazza di tornare un'altra volta a romperci le scatole qua eh si pam tutti i ricordi sembrano le parti peggiori delle tue vite oh è arrivata anche la neo sister con i tarocchi la vedo dura Anna Maria i tarocchi si possono leggere un qualcosa ma non hai prove concrete di quello che poi ti dicono quindi non ha senso la cosa migliore è la meditazione regressiva sempre per i ricordi animici non qualcuno che ti dice ti è successo questo ma quello che tu riesci a vedere può essere perché non accettano la loro morte più che non l'accettano non hanno capito molti di essere morti non è possibile accettarle proprio che non l'hanno capito ma non sono dei poveretti alla fine le energie gli arrivano lo stesso tempo non ne perdono perché tempo non ce l'hanno quindi non non è nulla di grave alla fine so che con te che non te ne ho qui ma se ne sei attirata potresti provare a studiarli i tarocchi sono uno studio non è una questione di doni non devi avere delle capacità basta che studi come funzionano e come vanno utilizzati tutto lì non c'è bisogno di avere delle capacità magiche per usarli è tutto studio come le rune come il pendolo come tutti quasi i ching i bastoncini di riso tutte le tecniche di veggenza a meno che non hai le visioni oracolari ma se usi delle attrezzature è solo studio io non mi sento parte di questo tempo anche te il periodo vittoriano ti mette insieme con la mia collega Giovanna Lucido anche lei il periodo vittoriano io invece sono stata sono nata in Giappone non so quando e in Cina non so quando ma io lì ho lasciato l'anima me lo meritavo di tornare in Asia e invece mi hanno dirottato l'aereo come infantozzi qui in Italia perché noi abbiamo avuto tantissime reincarnazioni non una sola e quindi abbiamo avuto tante vite dove abbiamo lasciato dei ricordi un pezzo del nostro cuore chiamiamolo così e invece abbiamo avuto delle altre vite che abbiamo proprio cancellato ed è meglio così ci ho provato per le vite a chiedere i tarocchi ma se te le fai da sola potresti influenzarti sì però se te le fanno gli altri potrebbero influenzarti gli altri alla fine per le vite i tarocchi non sono indicati sinceramente i tarocchi danno consigli di vita spicciola del momento non servono per indagare in quel senso ciao Fatina allora mi capita spesso di sognare delle cose e a breve poi si avverano gravidanze incidenti ogni tanto sono talmente brutte che rimango con l'ansia che si avverino come posso capire quelli effettivamente premonitori ma i premonitori sono sempre pochi normalmente come dicevo in altri video sono più collegamenti telepatici a volte o qualche entità che ci dà il suggerimento però sì ci sono anche quelli premonitori ma non sono mai per cambiare quell'evento quindi in ogni caso quello che deve succedere deve succedere non lo devi cambiare capire quali siano gli uni e quali siano gli altri è una questione meramente introspettiva purtroppo è soltanto chi sogna che alla fine dovrebbe riuscire a cogliere gli indizi di quello che sta sognando i tarocchi escono in generale perché sono degli studi fatti sui tarocchi però sono solo consigli che dà alla fine sempre l'universo chiamiamolo così per affrontare determinate strade certo che i tarocchi ti possono dire se fai così succede così ma se tu poi così non lo fai non succede quello che ti hanno detto e poi ricordati sempre che se leggi un futuro nel momento in cui lo sai automaticamente lo cambi per un motivo o per l'altro lo cambi sembro sembro cinese dov'è dove ho letto sembri cinese ma magari io amo l'Asia la amo io dovevo nascere lì alla prima che si scarichi completamente la batteria si sono al 20% su youtube ci sono un sacco di canali dove fanno urbex con rivelazioni hanno un sacco di strumenti io vorrei vederci guarda a me gli strumenti non servono perché io li vedo a occhio nudo se ci sono o non ci sono al massimo faccio qualche foto col cellulare quando li becco belli è che ogni tanto li metto anche nelle mie pagine le foto dove riesco a farli vedere anche agli altri chi fa indagine in questo modo è sempre candida che lei è un appassionata adida è un appassionata di attrezzature da ghost hunters perché non sono urban sono ghost hunters ma a me piace molto andare a volte con loro ora non l'ho più fatto negli ultimi anni perché qua non ce n'è dove abito adesso sui monti però una volta andavo spesso con loro ma gli indicavo io dove andare a fare le rilevazioni perché io ci tenevo più che altro che avessero delle prove loro io li vedevo quindi il problema non ce l'avevo ciao Lilli ma ancora come riconosci ho visto me come uomo nell'ottocento potrebbe anche essere che c'è qualche connessione comunque noi siamo state uomini donne l'anima non ha sesso quindi è solo una questione di involucro il sesso molto legata a una vita presso le civiltà celtiche ma appunto io per esempio invece con i celti e con i norreni con i celti un pochino con i norreni proprio non sento nessun legame ho provato mille volte anche a studiare le rune perché erano carine perché mi piacevano come estetica non c'è verso che a me entrano non sono proprio collegata al popolo norreno secondo me non ci sono mai nata io lì perché non è possibile e appunto Adida stavo dicendo che sei tu quella pratica in ghost hunting e in tutte le attrezzaturine di rito ciao Carmelina buonasera ma magari magari ragazze magari poi io sono un'appassionata per quanto riguarda la Cina dell'epopea tonghe dell'epopea Ming quindi dell'epoca un po' meno ma sì ancora l'epoca Qin l'epoca Han no comunque so più la storia cinese che la storia italiana il libro tibetano dei morti è molto diverso da quello che racconta la realtà sì lo conosco bene il libro dei morti sia il tibetano e sia il libro dei morti egiziano perché sono due con lo stesso titolo ma mi frena che sia troppo sporca sì 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 le traduzioni che trovi sono tutte sporcate dalla mentalità di chi ha tradotto da chi ci ha voluto inserire cavolate dentro l'unica sarebbe imparare a leggere il tibetano antico e l'aramaico e leggere i rotoli originali no mi abbandoni barbie ma io lo so perché a te te casca sempre la connessione buonanotte barbie questi collegamenti telepatici da cosa dipendono perché con alcuni sì e con altri no perché la telepatia non è un dono non è una capacità particolare è una facoltà esp di cui tutti gli esseri umani sono dotati solo che c'è chi sa usarla in modo volontario e a chi invece gli si apre e gli si chiude in modo del tutto involontario quando due persone hanno i canali esp aperti in quel momento può succedere che si colleghino ma sono capacità esp tutti saremmo in grado di usare la telepatia se ci allenassimo e imparassimo ad aprire il canale telepatico gli strumenti e sì lo so appunto gli strumenti servono per dare prove ovvio è ovvio che il motivo principale è proprio dare prove però dicevo siccome io sono un po' imbranata con quei cosi allora io quando andavo con i ghost hunters preferivo dirgli dove erano le entità e poi loro facevano le rilevazioni ma adesso non c'è posso ma a volte ritornano mi è tornata Marcella se prendo il postino ma ancora non sono arrivate io non ho più avuto tempo ora domani ho il vaccino se rientro presto che domani ho il terzo vaccino se rientro presto li vado un attimo a vedere davvero perché non è possibile tra l'altro alle altre persone più o meno è arrivato quasi tutto a tutti mi pare ora non ho chiesto una per una però quelle che mi è capitato di parlarci avevo chiesto era arrivato tutto abbastanza in fretta abbastanza bene ci rimango male queste cose chi è che hai nominato che fa Ghost Hunters ha un canale una pagina è Candida Adida la trovi qua felicità nei commenti Adida Inis che si chiama Candida si è messa un nome che pare un'aliena è lei è lei c'ha anche un canale sì lei ti sa spiegare meglio pure che di là non abbiamo sesso ancora con questa storia del sesso ma abbiamo la visualizzazione quindi lo possiamo creare non ti preoccupare di queste sottigliezze figlia che credo non sia scontata per nulla perché fai tutto questo guarda nell'80% del perché faccio tutto questo è semplicemente perché è un mio compito il rimanente 20% lo faccio anche ammetto la sincera verità per me stessa perché se io mando come spiegavo prima per altri contesti vibrazioni positive quindi se io faccio cose con il pensiero che sto facendo che sto aiutando che sto facendo comprendere che sto facendo capire in qualche modo mi torna addosso anche della vibrazione positiva quindi diciamo che è uno scambio che faccio anche con l'universo ma in generale proprio perché è un mio compito alcuni di noi sanno che compiti hanno siamo in pochi ma alcuni ci sono e lo so Pam tu sei più legata a norreni celtici io meno i celti così così con i norreni proprio io non ho nessun legame mi annoiano persino i film non so perché con tutto che mi piace molto la storia per esempio di Loki di Hell però non riesco proprio a legarmi a livello culturale ai norreni può essere che un parente morto molto giovane possa reincarnarsi in un proprio parente in epoca futura tipo una nonna e un nipote che non ha mai conosciuto non è di loro interesse però se serve a quell'anima per fare un'esperienza particolare si può farlo però non ne frega più niente una volta che siamo di là i parenti non hanno più il legame di parentela che c'era prima rimangono i legami con i fili rossi che sono parenti d'anima ma non sono parenti di sangue quindi non c'è più un interesse a tornare in quella famiglia che non si sente il legame con un periodo una certa cultura perché non abbiamo mai fatto l'esperienza infatti può essere che non ho mai fatto nessuna esperienza lì con quella norena celtica ho molto legame tanto che addirittura sognavo le rune appunto io invece di notte da piccola sognavo di cantare canzoni in giapponese che poi crescendo ho scoperto essere parole reali in giapponese quindi non sono sicura di esserci nata in giappone nella mia nella mia esistenza animica e di esserci anche stata bene sì adida detta adida detta adida detta candida detta madre sì tu e le tue rane figlia mi fai venire le ansie soprattutto quando me le mandi a me le rane malvagia no no ma ti vado a cercare lili non ti preoccupare guarda ci sono rimasta di un male adesso guarda tanto domani dovrei riuscite a a sbolognarmi il vaccino in fretta e dovrei riuscire a passarci tu comunque puoi provare a passare ti devo dare il numero ce l'ho giù tra il compleanno tra le cose tra le trasmissioni mi sono completamente fumata il cervello domani sempre passo anche il magazzino e ti mando il numero di traccia almeno puoi chiedere anche dalle poste lì da te che magari non sia rimasto lì nell'ufficio l'entità ma alle entità dei vaccini non gliene frega niente manco del coronavirus non l'ho neanche chiesto io poi sono una persona estremamente fatalista quindi non mi preoccupo mai di niente devo fare il vaccino lo faccio devo fare il virus lo faccio io faccio tutto non me ne frega un tubo di fare lotte e cose varie ma perché appunto sapendo tanto della questione ultraterrena sono un po' diventata come i defunti ormai queste vite terrene non me ne frega la mazza come vanno vanno e buonanotte al secchio e oltre è il mio canale ah sì 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 ma magari candida mettigli i link che almeno ti trovano cliccandoci se volessi contattare una mia guida nel sogno lucido ma non so ancora com'è e chi è non funziona e no in sogno lucido puoi portarci sia vivi che defunti che guide che quant'altro ma devi sapere chi stai chiamando altrimenti non funziona almeno non funziona la tecnica quella che ho spiegato io poi non so se ce ne siano altre io ho sempre usato quella di tecnica chiama le sottigliezze e tue vibrazioni positive arrivano a tutti ma guarda Chiara che io noi sono felice io spero davvero in qualche modo di mandare proprio positività il più possibile persino due o tre libri di quelli che ho fatto sono proprio fatti apposta non tanto per fare dei libri ma proprio per insegnare ad attrarre più positività possibile più persone vibrano in maniera positiva e più tutto il pianeta può prendere una vibrazione positiva e questo alla fine giova a tutti non è una cosa singola ecco metti i link sono imbranata appunto felicità glielo stavo dicendo di mettere i link come apri i canali e poi dipende che canali vuoi aprire e che canali vuoi chiudere ce ne sono talmente tanti quei demoni dei miei figli mi stanno contattando e non telepaticamente allora buonanotte il mio di demonino con le orecchie a sventola dorme quindi io queto buonanotte Silvia anche io con le rune non ci ho mai capito una mazza appunto perché si vede che non siamo proprio legate a quel tipo di ribo può essere eh Lilli ti giuro che in qualche modo la risolviamo guarda piuttosto ti rispedisco tutto un'altra volta e stavolta con l'assicurazione sopra credimi che in qualche modo la risolviamo e che ci rimango male perché io ci tengo che vi arrivino subito invece c'è sempre qualche intoppo a funzionare funzionano sempre quando abbiamo abbastanza energie basta programmare bene l'intento sì credo che alla fine autum sia come tutti tutte le attrezzature di leggenza ma io proprio non lo so mi scordo mi scordo i significati mi scordo i simboli è una cosa che non mi entra in testa non ce la faccio con le rune eppure sono belle mi piacciono ne ho anche ne ho un sacchetto in labradorite e un sacchetto in ossidiana nobile che sono mie personali non riesco manco a fare la veggenza del tipo domani riesco a svegliarmi perché non mi ricordo vedo tutti questi disegnini ma non mi ricordo mai una mazza del significato dovrei stare col libro a controllare pezzo per pezzo sì abbiamo visto che dopo le hai messi i link e tu hai fatto ma guarda che mi sa che il virus non so quando e non so come ma mi sa che l'ho fatto pure io ma tanto non me ne sono quasi manco accorta per cui va bene così anche perché io sono un po' restia a fare tamponi visto che costano un rene a meno che non mi venga la febbre a 40 e il tampone non lo faccio come chi è sì esatto autum prima devi almeno capire chi è se lo vuoi chiamare canali paranormali no parlava dei canali paranormali Angela no di quelli youtube quelli youtube li conoscio a memoria i miei come canale 5 cominciate comunque è il gruppo con il quale collaboro ok sempre belle queste dirette e io ti saluto e ti do la buonanotte Maria Teresa ci rivedremo lunedì prossimo tanto ormai a lunedì ho preso gusto non ho pianto più di faste dirette almeno faccio due chiacchiere mi faccio due risate e non devo stare a studiarmi di cosa parlo stasera di cosa parlo stasera che tutte le volte mi ammattisco il pendolo è mosso dall'entità dipende da come lo usi se tu lo usi tenendolo tu 99 su 100 sono le tue energie che lo fanno muovere se invece tu lo usi con un poggia pendolo che è un oggetto dove tu ce lo metti fisso e non lo tocchi con le mani e il pendolo si muove dandoti le risposte allora è un'entità che ti sta rispondendo io preferisco il secondo modo per esempio io non lo tocco mai ma io anche con la per me non ha senso utilizzare una tavola e tenerci il ditino sopra la planchette per me la via deve stare da sola senza che la tocchi e la planchette si deve muovere da sola altrimenti non ha senso non canale 5 mandatemici a me a canale 5 che canale 5 paga come una banca fatemi fare qualche qualche spettacolo lì se questi di me siano governati identità ovunque si sente dire energie ma nessuno mai parla chiaramente no te l'ho detto se lo tieni in mano le energie che lo smuovono sono le tue che poi siano le tue energie diciamo che te lo fanno muovere in maniera oracolare perché hai delle capacità hai delle energie particolari tu dentro di te e quindi ti dà una risposta oppure se tu lo metti su un poggia ci sono delle attrezzature apposte che adesso non ho per lavoro l'altro giorno sempre con candida con adida che me lo devo fare in rame un poggia pendolo e lo lasci lavorare da solo ti ci concentri gli fai le domande gli fai le richieste il pendolo si muove da solo senza che tu lo tocchi lì di solito sono energie di entità che ti danno una mano con le risposte mi aspettano i moci ne ho ancora una scatolina poi dovrò fare rifornimenti di moci di come aprire o chiudere i canali credo che c'entrino anche i chakra la pineale e la tua ottica del paranormale certo tutto fa anche la dieta perché per aprire specialmente i canali medianici quelli di collegamento con le entità con i defunti bisognerebbe mangiare senza sale e non mangiare carne di nessun animale nessuno anche il pesce è un animale lo dico perché tanti confondono con il vegan con il vegetaniano eccetera niente nessun cadavere animale allora si decalcifica prima la pineale no c'è ancora una scatolina una ce l'ho madre si si aliona il mio è granato perché il granato è la pietra di collegamento migliore con i defunti e siccome io ci ci lavoro nel senso che ci mi ci collego ai defunti con questo ma io anche i miei tarocchi li uso per i defunti io non faccio le carte ai vivi non me ne frega niente se un marito fa le corna o se una casa verrà venduta non riuscirei neanche a vederlo io ho i miei tarocchi che ce li ho da una vita e mezza sono 30 anni di più di 30 anni di più sono 40 anni che ce l'ho ne avevo 9 ce ne ho 47 sono 38 anni che ce l'ho ma le uso solo per chiedere cose alle entità che interessano a me per certi casi che magari seguo aiuto eccetera e la stessa cosa vale per il mio pendolo per questo l'ho preso in granato perché almeno era la pietra preposta proprio ai defunti avevo un collegamento migliore dipende dipende a volte sono tue guide a volte sono dei defunti che ti rispondono a volte sono dei tutelari quello dipende anche tanto da te come sei legata a certi tipi di entità e dipende anche da che cosa stai chiedendo su chi la stai chiedendo dipende dal contesto ho cercato su youtube e mi sono iscritta così almeno mi arrivano le notifiche comunque vorrei un video con Sveva che punta col dittino e dirige ci siamo viste a Genova a Natale ma non avevamo le attrezzature siamo state una giornata sola ma magari prima o poi quando si decide a prendere un periodo di ferie e pigliare la macchina che lei guida io non guido se no ammazzo qualcuno ma lei guida e venirmi a trovare qua qualche indagine insieme la facciamo così io punto col dittino e lei scatta come il mocio no il mocio fa sempre parte dei lavori del coniuge io mi astengo da quel tipo di lavori io riparo l'impianto elettrico i tubi del gas quelle cose lì il rubinetto quelli mi piacciono io e il mocio non siamo amici con la dieta sono messa male ma lasciamo perdere mi sale la carne non riesco ad abbandonarli del tutto solo la carne di pollo sta cominciando a farmi schifo il pollo io nessun animale con le piume perché se no potrei essere anche fraintesa metto in bocca io non mangio animali con le piume di nessun tipo la mia piume deve essere decalcificata bene che sono 11 anni che non mangio né carne né pesce ma a parte qualche ombra o sagome più chiare che passano velocemente non vedo niente di preciso beh ma poi ci sono tutti gli altri contorni però in generale quello aiuta già tanto poi c'è la meditazione ci sono certi allenamenti c'è lo studio in sé perché come dico sempre questo mondo più lo conosci realmente e più riesci a vederlo e a percepirlo perché capisci cosa stai vedendo il tuo cervello inizia a capire cosa vede quindi ci sono tutta una serie di fattori non è solo la dieta che aiuta però quella comunque aiuta tanto ciao Chiara buonanotte tanto tra poco mi crolla anche la diretta perché non c'ho più di batteria sta morendo lentamente c'ho il 9% mi sa che devo proprio salutare se no non riesco neanche a dirgli di lasciarla online sul gruppo o su una dida ma il mio nome è cani del diminutivo vero e dida e sei anche madre esatto nessun pennuto noi non mangiamo gli angeli no volevo dire siccome io pennuti chiamo gli angeli poi rischio di fare confusione se dico che non mangio i pennuti i pennuti con tanto zenzero sopra se no fanno schifo boh comunque io lo zenzero mi piacciono le caramelle solo perché ho provato da mangiarlo così mi si è tutta allappata la lingua allora dove siamo rimasti qua ma sì ma ce la facciamo prima o poi prima o poi la costringo ad andare in action insieme vi do la buonanotte anch'io anche perché qua se no mi muore tutto ci vediamo per la prossima live lunedì prossimo domenica però c'è la trasmissione in diretta dello specchio nero e il resto della settimana vi subite i miei video quelli su youtube come non andare via e lasciami la buonanotte non è che me ne voglio andare che ho il 7% di batteria se no non riesco neanche a caricarlo del tutto il video buonanotte sorellina mia buonanotte alla figlia putativa buonanotte alla neo sister buonanotte a tutte quante Anna Maria Luana Autun Claudia tutte quante Lilli ovviamente è il contrario ah si no sta ancora spiegando il perché di quel nome astruso alieno di Adida perché si era messa Adid ma la scambiavano per un uomo marocchino e allora è già giunto la questo però non lo dice ciao figlia notte Francesca notte Angela ci sentiamo ci vediamo se non ci vediamo accendiamo la luce ciao Ale buonanotte ciao a tutti